Fermi tutti, ho fatto uno dei più bei scherzi che mi siano mai riusciti. Praticamente cos'è successo? Tempo fa abbiamo partecipato a un concorso dove venivano estratti delle persone per la vincita di una macchina, in particolare una smart, di cui la Roxy è particolarmente innamorata. Allora io cosa ho fatto? Ho creato una mail tipo come questa, dove proprio appunto diceva che abbiamo vinto una smart, con tutti i nostri dati egregi signori avete vinto una smart, numero di banca, bla bla bla. E l'ho fatta talmente bene che c'è rimasta troppo male quando ha scoperto che non era vero. Infatti io vi voglio lasciare al video perché fa troppo ridere e mi picchierà non so quante volte, infatti li innumereremo pure insieme. Quindi continuate per vedere il video e lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete anche il video. Ciao! Eccoci con dei tali guardi, ingranati! L'equilibrista! L'equilibrista! Ho vinto la smart! Il ciclista! E la pista! Hai vinto smart! Sì, hai vinto smart! Umi, è la banca stella, come l'ho dato adesso, mi hai rincavato. E guarda il futuro della tua pelle. Mi hai vinto la schiattica? No, mi hai vinto di male. E' frutti signor, che stanno facendo con la tua pelle? Anche a casa. Siete risultati, vincitori! Basta girare la pubblicità, boh! Momi, abbiamo vinto! Ma la pubblicità è stupida. Dov'è questa cosa che ha venuto? Momi, sei stupido, abbiamo vinto! Ma dove c'è scritto? Momi, cliccando nel link sottostante dovrete confermare i vostri dati anagrafici e nella scelta di intestazione dell'auto. riceverete l'auto nelle prossime due settimane lavorative, in maniera del tutto gratuito. Chiavi in mano, metto la voce. Momi, hai vinto di sottostante! Sottostante! Guarda! Adesso è arrivato! Ma va che è una pubblicità! Non è pubblicità! Non è pubblicità! Tu hai messo tutti i nostri dati, i nomi! Momi, ma leggi! E come fai? Hai fatto uno scherzo? Smetto, è banca senza. Ma chi ha avuto? Ma sei scemo! Complimenti! Hai vinto un altro atto! Voi mi scherzo! Voi mi scherzo. Voi mi da! Ma che fai? Ti fai fatto uno scherzo! dai ma no si ma la pubblicità se tu clicchi sul link dov'è? mommi allora clicca sul link quale link? c'è scritto il link complimenti vintura smart mommi come hai fatto? come hai fatto a fare uno scherzo così? scusami come hai fatto? ma non si fanno dai no come hai fatto? ma non solo fare uno scherzo ma è pubblicità ma non è pubblicità e cos'è? mommi banca sera adesso li chiamo domani scusami e li chiamo di domani io non so tanto ci ho contattato nei prossimi giorni dai mommi dai mommi scusa scusa dai scusa ma mommi ma scusami c'è scritto c'è scritto cliccando sul link sottostante dovrete confermare i vostri dati analgripi eh? analgripi e nella scelta di intestazione ma come hai fatto io? ma come hai fatto a farlo? ahahahahahahahahaha dai non si fanno scherzo Mami, dai, potrai mai perdonarmi? Mami, io ti amo, dai, ho fatto questo piccolo scherzo, ma è piccolo piccolo, dai, Mami, ci sei rimasto a male, certo, dammi un bacio, avete una casa da offrirmi? Non c'è bisogno, c'è il giardino, c'è il giardino? Non c'è bisogno, c'è quello che si compra, ma il giardino è possibile... Grazie a tutti